Allora preparatevi perché durante il gioco io mi trasformo in un mostro Mi tilto a bestia ragazzi, quindi mi raccomando Voi ditemi che va sempre tutto bene, ditemi che so brava Ditemi che c'ho sempre ragione, che se no comincio a scavociare, divento un mostro, divento tipo... Allora qui bisogna concentrarsi ragazzi, concentrarsi, concentrarsi Ma vedi porco demonio, ma perché... E' moso cazzo? Eh, rip Cioè, anche sti cazzi in realtà, eh, però... Sti cazzi? Porco demonio dei facoci, che cazzo d'animale è questo? Che cazzo d'animale è questo? Una lucciola col culo grosso, che minchia è? Che cazzo è? Un calabrone? Che cazzo è? Vedi porco demonio laido? Perché? Perché? Che giochino zil! Ma sì, è un giochino tranquillo, che ci vuole a farlo? Per farlo! Demonio! Oh! Te permette, mortacci de ste piante de merda? Sempre detto io che la verdura fa male! No! Senti, vaffanculo a sto cazzo de coso! Senti, io non le prendo le casse, mi hanno rotto i coglioni, basta, tanto è inutile che sto a piare le casse, tanto non le riesco a prendere tutte. Cioè, non stiamo se a piare, per culo! Vedi? Perché è tutto perché io voglio prendere le casse, perché se non prendessi le casse... A pezzo de merda! Tutta live in francese, scusate se non sapete il francese, raga, mi dispiace tantissimo. Purtroppo, quando si giochi, io parlo in francese, quindi... Vai avanti, Maria addolorata della Vergine! Ma che è tosto, eh? Ma sti cazzo di dinosauri, ieri ero più brava coi dinosauri. Ma sti cazzi! Ma si può? Ma si può morire in questo cazzo di modo? Ma si può? Con sta cazzo di pianta, si può? Ma si può? No, no, non lo faccio, no. Porco de... Niente, vabbè, niente, però ho preso un sto cazzo di cimmo. Oh, Gesù Maria! Ah, carino sto pezzo! Cioè, capite che non è normale sta cosa? Come si fa? Ah, ma lo posso... Ma allora... Lo posso roteare! Lo posso roteare... Oddio, regà, vi ricordate qui che c'era? Oddio, regà, vi ricordate che c'era qui? Questa è tosta, ragazzi, perché... Adesso vedrete. Via. Ah, sta vaffa, eh. Cioè, credo, l'avevo quasi fatta al primo... Al first try, cazzo! Oddio! No! No! Dov'essere più veloce possibile. Dai, che tap in del culo! Tap in del culo, amica mia! Orca mignota, ce l'ho fatta! Arr... Cioè, qua sto un master a fortissimo, eh! Dai voi io, voi! Ci siamo, Juan? Sto pezzo l'ho masterato, ma adesso... Adesso in poi non so più che cazzo devo fare che lo dico, eh! Porco diaz! C'era riuscita, cazzo! Credibile! Ho capito però, forse potrebbe... Potrei aver capito. Ho capito come fare! No! Eh no! C'avevo pure il bobo! Ah, Gesù! Non ho capito, aspetta, perché sono morta ora? Cioè, non... Ma si è bagato perché ci stanno le ga... Porco diaz! Come si fa? Come si fa? Sono sbagliata. Ma è impossibile, raga! Cioè, è palesimente impossibile! Scusatemi, eh! Ma perché fa così? Perché esplode? Non è mai esploso finora! Ma esplode! Cioè, è impossibile, raga! Cioè, è impossibile, raga! Campeoni del mondo! Basta, raga! Basta esultare, perché sennò poi... Ma la porto sfiga, mi porto. Oddio! Oddio! No, vabbè! Meraviglioso! Sì, un'altra volta! Oh! Amati! Lo sapevo io che succedeva qualcosa, era da una troppa sveglia... Che ansia! No, vabbè! Ma solo io riesco a morire in questo modo! Dovevo andare sul coso! Perché? Non riesco a capire... La prospettiva! Non ce la faccio! C'ho qualche problema con la prospettiva, però! C'ho qualche problema con la prospettiva! Cioè, che cazzo l'ho fatta? Speedrun è nata, braga! L'avevo speedrun è nata, braga! L'avevo speedrun è nata! Blind! Citi? Citi si è reso? Grande, da Pindercu! No, non ho capito. No, non ho capito. Non ho proprio capito un ca... Come va a... Ma cazzo fai, scusa? Ma cazzo fai? Ho trovato una gemba a caso! La gemba è completamente a caso! No! Ma guarda se sto stronza! Mi sono gettata! Con un tuffo 10-10! No, vabbè! Porco... Porco diaz! Ma come si fa? Ma quante volte lo devo fare sto magheggio? Mio Dio, ragazzi! È impossibile! Ma perché faccio sta cosa? Ero arrivata! Ero arrivata! Perché faccio questa cosa dei tuffi? Portacci tua! Oddio, ragazzi! Mi sta venendo... Mi sta venendo... Mi sta venendo un infarto! Ari, eccolo sto cagacazzo! Ah, qui! Ciao! Ciao! Demastero tutto! Demastero! Oddio! Pensavo comunque non si potesse andare da quell'altra parte! Oh, ma basta! Oh! Ah! Sì, vabbè! Ma quando mai? Belli! Ah, belli! Ah, belli! Ti faccio un applauso! Solo 36 morti! Che ce vuole? Che ce vuole? 36 morti! Che ce vuole? Niente! Bello, raga! Io non vedo l'ora che esca sto gioco, vi giuro! È meraviglioso! Meraviglioso! È meraviglioso! Ciao!